Piacere Francesco, ho 16 anni e frequento il Kennedy a Roma. Il progetto Lomakers è un progetto che vale per alternanza in scuola lavoro in cui il fine ultimo è trattare e realizzare un programma. Abbiamo fatto tre incontri e per il primo incontro abbiamo un po' indagato sul mondo del micro, del macro, del visibile e invisibile per capire poi bene quando saremo andati a realizzare un programma di cosa si stesse parlando. Abbiamo analizzato micro e macro e diverse immagini al microscopio che facessero intendere questi due mondi. Oggi come ultima lezione abbiamo realizzato attraverso il programma l'ologramma che non propone un'immagine piatta ma un'immagine spaziale realizzato attraverso calcoli e funzioni matematiche. È una bella cosa, per noi che non ne avevamo mai trattato e comunque fa piacere.